Gianni siamo di Davide Maggio, ieri un grande inglese One Direction Ma come l'ho detto One Direction, male Ma benissimo ci piace il tuo inglese, sei un grande One Direction Hai fatto corso con Olga ieri per questo Ho fatto... Ma no ma guarda che mia moglie ha una insegnante di inglese E tutte le mattine viene a casa nostra perché lei è fissata che vuole imparare l'inglese E sulla pronuncia io sono bravissimo, poi quando arrivo lì mi confondo È un grande esempio, una cosa, Casillo ha detto che lui ti stima molto perché ha cominciato Tu hai cominciato a 15 anni anche tu, quindi insomma evviva questi ragazzi che cominciano da giovani Vedere tutti questi ragazzi giovani sul palco mi fa emozionare, ripenso Certo che riguardo indietro a quando ho cominciato io Certo che erano altri tempi, non avevamo queste platee eccezionali Però io gli auguro sia a Alessandro, che a Erika, che a Guazzone, che a Io ho sempre voglia Che a quelli della sera precedente, Anania, Celeste Gaia, BDL Ne manca uno? Giordanaggi Giordanaggi, 18enne Spero che questo sia un punto di partenza per loro Che possono raggiungere grandi risultati Grazie Gianni Buonasera ti sei riccante